Sono a mio avviso tre le parole chiave, le informazioni fondamentali che possiamo dire di aver imparato e possiamo dire di imparare da questa emergenza di carattere planetario. Imparare qualche cosa non vuol dire per forza sempre ottenere nuova informazione, talvolta noi impariamo perché riflettiamo meglio, diventiamo più consapevoli delle cose che già conosciamo in un certo senso, che già fanno parte del nostro background, che fanno parte della nostra vita, diventa quindi un esercizio di riflessione su ciò che c'è già. La prima parola chiave è scienza, scienza e tecnologia. Con buona, ottima pace di tutti coloro che si sono impegnati nel denigrare, relegare e diffamare questa forma di conoscenza, la forma di conoscenza scientifica e l'intervento tecnologico connesso ad esso, mi sembra che la realtà abbia parlato in maniera chiara e inequivocabile. Questa è una fase storica dove si è inverata forse all'ultimo livello, per ora, la rivoluzione scientifica iniziata 500 anni fa. Torneremo magari alla fine su questo punto. Ma quello che sembra è che la nostra stessa esistenza, il nostro stesso modo di vivere e vivere insieme sia interlacciato in maniera strettissima con le nostre spiegazioni scientifiche, con il nostro modo di ottenere informazione dal mondo che ci circonda. Naturalmente, parlando di scienza, abbiamo fatto la conoscenza con come effettivamente avviene il processo di acquisizione di informazione da parte degli scienziati e quindi poi della comunità scientifica. Quello che mi sembra però, sempre connesso a questa idea, è che il parere dell'esperto, il parere degli esperti, il parere della comunità scientifica non ha più questa funzione ancillare, non è più un orpello rispetto alla scelta di decisione pubblica, ma diventa essenziale, diventa una componente irrinunciabile. E facendo la conoscenza di questo modo di ragionare abbiamo fatto anche esperienza di come il processo di acquisizione delle nuove conoscenze e il processo di decisione collegato a questo è un processo estremamente più complesso di quello che noi potevamo immaginare. In un certo senso, fino ad oggi, noi abbiamo fatto esperienza di una conoscenza scientifica che ci arrivava già distillata, già totalmente pronta, impacchettata. La scienza ha detto che non avevamo la percezione di tutti i passaggi che bisogna compiere per arrivare a questo. In questa situazione d'emergenza noi abbiamo la percezione di questi passaggi, perché in parte li vediamo, in parte no, in parte probabilmente non li comprendiamo fino in fondo, ma vediamo quindi la difficoltà di ottenere informazione e la difficoltà di poi prendere decisioni condivise. vediamo aspetti che sono noti agli scienziati, ma che non lo erano alle persone comuni, vediamo le diatribe, vediamo le difficoltà, le spaccature anche nell'ambito della comunità scientifica. Bene, tutto questo è emerso e emergerà in maniera sempre più forte, proprio perché la componente del sapere scientifico e della sua applicazione tecnologica, non dimentichiamolo sempre che è la sua applicazione tecnologica quella che poi permette per esempio l'intervento con macchine salvavita, eccetera. Bene, tutta questa componente diventerà, e lo è già, una componente essenziale della nostra percezione della realtà, sia singola che condivisa. La seconda parola chiave è legata ai modelli. Proprio parlando di scienza abbiamo toccato con mano che la scienza non ci propone dogmi, non ci propone verità belle e pronte, ma elabora modelli. Questo lo stanno benissimo gli scienziati, ma è diventata una consapevolezza comune. I modelli sono approssimazioni, sono rappresentazioni della realtà che si basano su alcuni parametri e descrivono la realtà in una maniera che è per forza sempre un'astrazione dalla complessità delle cose. Abbiamo fatto, abbiamo di nuovo toccato con mano, abbiamo di nuovo fatto esperienza della difficoltà che i modelli hanno di prevedere le cose come andranno. Più il fenomeno è complesso, tendenzialmente è più difficile fornire dei modelli che ci permettono di prevedere gli sviluppi a 1, 2, 4, 8 giorni, 1 mese, 1 anno, 10 anni. Avevamo già in effetti un'idea di questo aspetto con le scienze economiche, con le crisi economiche, perché da un certo punto di vista c'è una bella similarità tra queste due rappresentazioni del mondo, ma noi oggi lo viviamo in un ambito come quello dell'epidemiologia, della diffusione delle malattie, che impatta fortemente sulla nostra vita. Quindi in qualche modo è l'abbandono di questa ingenua idea di certezza ed è l'abbracciare quello che dal 1700 ad oggi la scienza ci dice essere il suo ambito. per utilizzare una bellissima frase è, come dire, l'arrivo nel crepuscolo delle probabilità. Quello che noi abbiamo sono funzioni di probabilità, non sono certezze, non sono previsioni assolute deterministiche, ma sono sempre funzioni e onde di probabilità. E l'ultimo aspetto è collegato con questo ed è legato proprio alla negazione della dimensione della certezza. Noi viviamo in una condizione di incertezza, potremmo dire di incertezza epistemica, conoscitiva. Noi non sappiamo quello che accadrà dopo e questo non saperlo è stato sicuramente messo in luce da tanti psicologi che hanno commentato questo aspetto, crea ansia, crea una forma di sofferenza. Quello che dal mio punto di vista è particolarmente interessante è che le scelte, le scelte di carattere pubblico, le scelte di carattere strategico che vengono compiute sono tutte scelte che compiamo in una condizione di particolare incertezza. E allora diventa essenziale compiere queste scelte secondo dei vincoli di razionalità non solo ben chiari, ma anche condivisi. E questo di nuovo sarà un lascito importante di questa emergenza. Chiederemo, spero, chiederemo a tutti i nostri, alle persone che decidono di dirci in base a quale strategia razionale stanno decidendo, basandosi su quali modelli, basandosi su quali modelli predittivi stanno decidendo. Da un certo punto di vista mi sembra che vengano relegate, non escluse, ma relegate tutte le decisioni basate su motivazioni squisitamente ideologiche. perché la realtà e la fotografia della realtà che noi facciamo, una fotografia imprecisa, sgranata, della realtà che facciamo attraverso le nostre teorie scientifiche, non consente questa libertà di azione. Possiamo agire, certo c'è una scelta, c'è un aspetto umano che riguarda noi, ma possiamo agire solo all'interno di alcuni scenari possibili. E di questi scenari non sappiamo nemmeno tanto poi bene l'evoluzione. Quindi concludendo, mi sembra che sia la complessità, l'ultimo grande lascito di questa epidemia, di questa emergenza sanitaria. Molti hanno sottolineato il fatto che il mondo è estremamente fragile, estremamente delicato. Sono convinto di questo. Sì, il mondo è estremamente delicato. Ma c'è un altro messaggio all'interno di questa delicatezza che è un messaggio di speranza. È vero che è un mondo delicato, ma è un mondo che è capace di apprendere, ha una velocità molto superiore rispetto a quella della natura. Le nostre idee, le nostre teorie, i nostri modelli esplicativi sul mondo mutano molto più velocemente dei virus e mutano più velocemente ancora i nostri sistemi immunitari. È la nostra conoscenza che permette di anticipare le fasi a natura e di porre rimedio alla sofferenza di tutte le donne e di tutti gli uomini. Parafrasando dei grandi pensatori dell'antichità, del tempo passato, potremmo dire che certo siamo fragili come canne, come fili d'erba, ma la nostra conoscenza e la nostra razionalità, se usate in maniera opportuna, ci permettono di superare questa nostra fragilità intrinseca.